Far cambiare idea a qualcuno è difficile. Parte del problema è che spesso, prima che il contenuto di ciò che diciamo possa essere valutato, facciamo alzare le barriere difensive degli altri. Ed ecco perché, in questo video, vi dirò 5 cose da fare e da non fare per poter far cambiare per davvero le idee di qualcuno, che potrebbe anche essere completamente in disaccordo con voi. Per farlo, useremo il format Fammi Cambiare Idea di Steve Crowder. Due precisazioni prima di cominciare. Primo, vi mostrerò Steve solo per gli esempi di comportamento a cui mi sto riferendo. Ha avuto ospiti che hanno illustrato sia le cose da fare che quelle da evitare, ma è lui il volto, quindi è lui che userò. Secondo, tutto ciò non ha nulla a che fare con chi abbia ragione, che sia moralmente o logicamente. Essere logici ovviamente è importante, soprattutto quando si tratta di definire ciò in cui credete. Ma questo video si concentra sulle linee guida intime e personali, così che possiate comunicare in modo più produttivo. Quindi, il nostro primo punto è che quando si tratta della persuasione, vi sarà più d'aiuto l'andare lentamente. In poche parole, qualsiasi cosa che dà a voi e agli altri una pausa dal conflitto tra opinioni, può essere il trucco. Steve ha un'opportunità che viene usata all'inizio del pezzo in cui spiega cosa succederà. Ma Steve si accorge anche quando le persone fanno dei ragionamenti che non hanno a che fare l'uno con l'altro e spesso suggerisce alle persone di fare una pausa per ritrovarsi. Voi potete fare la stessa cosa se mai vi sentirete persi in una discussione, o se vi sembra che la persona con cui state parlando non stia davvero capendo il punto che state cercando di raggiungere. È molto meno efficace, dal punto di vista della persuasione, andare velocemente. Da un punto di vista logico, potrebbe sembrarvi controproducente. Dopotutto, se sapete che quello che volete dire ha bisogno di quattro colonne portanti, potreste essere tentati di esporle il più velocemente possibile, così da risparmiare tempo e concludere la discussione. Ma in realtà è controproducente, perché quando alle persone vengono date informazioni che si scontrano con il loro modo di pensare, spesso saranno in disaccordo per riflesso, se non avranno del tempo per assorbire queste nuove informazioni. Questo ci porta al nostro secondo punto, che è una forma particolare di rallentamento ed è la parte più importante del cambiare il modo di pensare di qualcuno. E si tratta della costruzione di un rapporto. Perché se non piacete a qualcuno, probabilmente le possibilità di cambiare le loro idee sono a zero. Vediamo Steve costruire un rapporto in un sacco di modi. Per esempio, in quelle situazioni in cui sapete davvero poco di qualcuno, stabilire le basi della loro vita può essere essenziale. Allo stesso modo, se avete qualcosa di positivo da dire, non dovete trattenervi perché state discutendo. Infatti, è meglio lasciare uscire quei complimenti. Inoltre, estremamente utile, è stabilire i punti in comune. Potrebbe sembrare sciocco, ma condividere un hobby, una conoscenza o un posto in cui siete vissuti fa sentire immediatamente le persone come se vi assomigliaste. Il che fa vedere loro la vostra posizione con meno sospetto. Per essere chiari, costruire rapporti non è qualcosa che andrebbe fatto semplicemente all'inizio di un'interazione e poi ignorata in favore di sillogismi. Specialmente, quando le cose si scaldano, è importante lasciare che il flusso della discussione si rompa. Questo comunica che la relazione è più importante di chi ha ragione. Guardate Steve, che lo rompe dopo dieci minuti di discussione nella prossima clip. Contrario del costruire un rapporto è ovviamente distruggerlo. E non dovete assolutamente farlo se il vostro obiettivo è persuadere la persona con cui state parlando. Sì, distruggere un rapporto può convincere il pubblico a sostenervi ed è una delle ragioni per cui Christopher Hitchens e le compilations su di lui sono diventate così popolari. Se vi interessa, potremmo occuparci degli insulti nelle discussioni in futuro. Ma per quanto riguarda questo video, non ci concentreremo lì. Perché questi modi di fare non fanno cambiare idea alle persone con cui state parlando. Quindi non fate cose come queste. Potreste aver notato che Steve ha menzionato di essersi sentito affeso per primo. E non sto cercando di dire di chi sia la colpa. Ma voglio sottolineare che se arrivate ad un punto in cui gli insulti sono stati tirati e non state più cambiando idee ma state combattendo in un gioco di dominio vi consiglio il nostro video su Russell Brand per capire come annullare questi attacchi senza insultare qualcuno a vostra volta. Invece dovreste usare l'umorismo e tornare alla persuasione genuina. Ma per questo video è abbastanza dire che gli insulti non fanno nulla per aiutarvi a cambiare le idee di qualcuno. E vincere con gli insulti una discussione non vi farà arrivare lontani. Ora, mentre la conversazione va avanti inevitabilmente cadrete in area in cui non vi troverete d'accordo. È un po' il punto di questo tipo di discussioni e l'istinto qui è quello di dare dei controlli o sfruttare una singola opportunità. Infatti, è quello che molte delle persone che siedono con Steve fanno. Si trovano subito in disaccordo nonostante sappiano solo dalle tre alle cinque parole del riassunto della posizione di Steve. Una strategia migliore è resistere alla voglia di litigare e invece aspettare finché non capite profondamente la posizione dell'altra persona prima di cominciare ad essere in disaccordo. Concretamente, dovreste provare a riassumere in modo conciso come si sente l'altra persona come vedete che Steve fa qui. So you're saying so you're saying that sex and gender are very different? Yes. Okay, I understand so that's your premise. So re-transformation of society based on from what I'm hearing from you unless I'm mistaken abstracts. I haven't heard a number I haven't heard what defines male or female only how people feel and I just that's to me that's not very convincing or conducive toward a productive society. So I want to make sure that I'm understanding your reasoning for why it is a baby outside versus inside the womb even though it's the same age. You are saying that location and that determines whether it's a human life because in fact when it's inside the womb it is not a separate human being it is a part of the mother. Yes. Okay, I'm not misrepresenting you there I understand you correctly. Yeah, okay. Non solo questa tecnica vi permette di evitare di perdere del tempo per discutere su cose che il vostro partner non sta nemmeno pensando ma soddisfa un bisogno emotivo centrale ed è fare in modo che si sentano validati a livello personale. Ripetere loro la loro posizione chiedere dei chiarimenti sono dei modi efficaci per farlo. Per mostrarvi come l'opposto possa distruggere una discussione guardate la faccia dello studente qui quando Steve gli dice che politicamente lui è verso sinistra anche quando con lo studente prima gli ha detto che non è così. quindi se trovate qualcuno in disaccordo con voi a livello verbale o visivo con la vostra caratterizzazione del loro pensiero fate una pausa e chiarite. Se non lo fate non importa quanti punti otterrete non farete cambiare loro idea. Allo stesso modo quando arriva il momento di condividere la vostra prospettiva personale non importa quanto ne siate sicuri di solito è meglio non stabilire ciò in cui credete come legge invece usate un linguaggio che renda chiaro che state parlando secondo la vostra prospettiva individuale della realtà come qui frasi fantastiche per queste situazioni possono includere il modo in cui vedo le cose o a meno che abbia torto oppure secondo gli studi che ho letto tutto questo farà in modo che le persone vadano meno sulla difensiva rispetto a sentirsi dire subito che la loro posizione è oggettivamente sbagliata. L'opposto sarebbe appropriarsi di una realtà oggettiva che contraddice l'altra persona. Quindi tutto che hai detto è inaccurato? Può sembrare frustrante soprattutto se siete sicuri di avere ragione ma è importante perché presentare ciò in cui credete con modi di comprensione invece di verità invariabili è più dell'essere retorico. I vostri studi infatti potrebbero ingannarvi la ricerca che state citando magari può essere rivoluzionata nel giro di 5 anni e le parole che l'altra persona ha pronunciato proprio un momento fa potrebbero essere ricordate nel modo sbagliato. Può esserci sempre una possibilità di sbagliare. Quindi non solo è più persuasivo ma anche più preciso aggiungere queste frasi. Ho una precisazione da fare qui ed è che le persone sulla difensiva spesso saranno persuase da costanti e proclamazioni che non rivelano nessun dubbio ma quando parlate con qualcuno che è in disaccordo con voi è molto meglio usare queste frasi. Ora quando si tratta di vincere il problema qui è che se c'è un vincitore chiaro c'è anche un chiaro perdente. Quindi cercate di non sottolineare le concessioni o le contraddizioni del vostro opponente con cattiveria. Dovete inquadrare la discussione non come una guerra che avete vinto ma come una ricerca per un accordo a cui avete contribuito entrambi. l'opposto di questa pratica sarebbe prendersi gioco di qualcuno sottolineando il momento in cui si sono contraddetti o in cui vi hanno dato ragione. Fate caso alla reazione dello studente qui è difensiva di riflesso e non convinta. sappiate che se fate in questo modo e vi vantate di questi momenti molto probabilmente tutto il lavoro che avete fatto prima verrà gettato al vento. Quindi anche se sentite che l'altra persona è stata una stronza o ha dibattuto in mala fede o vi ha insultato non vantatevi della vittoria. Fate solo notare con calma che sembra che siete d'accordo. Non importa che siate percepiti come vincitori ovviamente se il vostro obiettivo era quello di far cambiare idea a qualcuno perché voi avete raggiunto proprio quell'obiettivo. Mentre stavo terminando questo video Steve ha pubblicato un altro fammi cambiare idea e alla fine il professore con cui stava parlando ha uno dei cambiamenti di opinione più profondi che io abbia mai visto in tutti i suoi video. La cosa più interessante qui è che Steve e il professore hanno passato la maggior parte del loro tempo parlando di vita delle loro storie facendo battute e convincendo gli studenti a fare la ola alla fine. Hanno parlato poco delle statistiche e come vi ho detto è possibile perché uno dei modi più efficaci per far cambiare idea a qualcuno è costruire un forte rapporto. Creare un rapporto crea fiducia una comprensione mutuale e senza di esse non potete essere convincenti persuasivi o ispiratori e questo va oltre i dibattiti che sia chiedere un aumento vendere un prodotto cercare di avere un appuntamento o essere leader di un team il vostro successo dipende molto da quanto bene riusciate a costruire un rapporto e se volete l'abilità di creare velocemente un rapporto con praticamente chiunque vogliate dovreste dare un'occhiata alla carisma university all'interno di essa troverete oltre a dei contenuti inediti teorici anche delle action guide che non sono altro che dei piccoli compiti da svolgere quotidianamente in questo modo sarà davvero semplice per voi creare delle abitudini carismatiche così che sia naturale per voi e non dobbiate pensarci tutto quello che dovrete fare è seguire la guida passo passo e avrete dei risultati grandiosi la carisma university è stata tradotta in più di sette lingue in modo da permettere a più persone possibile di trarne un beneficio sentite come ne parlano ora i ragazzi americani il primo è un ragazzo che è stato promosso ad una posizione più alta all'inizio della sua carriera e dice non ho nemmeno una laurea triennale eppure vogliono che ricopra quella posizione e quando ho chiesto loro perché questa è stata la risposta hai grandi doti sociali ed è raro per un ingegnere riesci a pensare in modo veloce e sei aperto e sicuro di te nei tuoi atteggiamenti grazie mille per tutto quello che mi hai insegnato hai davvero cambiato la mia vita perché senza l'università del carisma non mi sarei mai qualificato per quella posizione nemmeno in un milione di anni un altro membro scrive grazie mille per aver creato la carisma university ha cambiato molto in come mi approccio il mio capo i miei colleghi e gli sconosciuti mi ha dato la forza di farmi valere e di fare lo stesso con gli altri far nascere un'attività e avere relazioni con le altre persone anche dopo il programma di 30 giorni mi sento come se ci fossero ancora così tante cose da imparare e io sono appena all'inizio di questo mio percorso di miglioramento quindi se volete dare un'occhiata al corso cliccate sul bottone che compare ora oppure trovate il link in descrizione in ogni caso spero il video di oggi vi sia piaciuto e come sempre non vedo l'ora di vedervi nel prossimo un abbraccio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti